Intanto siamo partiti male perché prima ho accolto il mio pensiero verso di lei, ma tanto l'avevo detto, quindi proprio così dato per scontato. In realtà era una sera che ti stavo pensando, l'ho scritto, quindi accoglierlo in questo modo è come uno svilire quello che pensavo, quindi non mi è piaciuto. E poi chiaramente io, se lui riesce a stare impassibile mentre ti bacio, io non ce la faccio. Non mi sembra che sono stato impassibile, l'altra volta non ho ballato con lei, quindi non mi sembra. Cognuno agisce in modo diverso, per me arrabbiarmi non significa lasciare o andare via, per me arrabbiarmi significa non ballare e stare fermo. Non sto dicendo niente a te, stai calmo. Adesso tu mi hai interpellato, quindi. Io a vedere una scena così non riesco a stare fermo, ho bisogno di un po' d'aria. Anche perché alla nostra, venivamo da tre esterne che erano state bellissime, ci sta una battuta d'arresto, ho cercato comunque di farle capire che non esiste che io mi faccio otto ore di macchina, congelo il mio lavoro, ci rimetto volentieri, non sto rinfacciando niente, volentieri per venire qui e vengo messo in dubbio perché dopo una puntata in cui ho messo da parte il mio orgoglio, perché sono una persona matura, per ballare con lei, non chiedo di lei. Grazie.